dai guardate gliela portate giù a piedi, pure a piedi, ti devono fare lavorare, basta, non devi passare a giù Praticamente ancora oggi, dopo 5 anni, voi non potete raggiungere il cimitero con dei mezzi? C'è un'ordinanza del 1 ottobre 2009 che vieta a chiunque di raggiungere il cimitero perché la strada è dissestata Come fate? Allora, capita che le bare vengano portate da una strada privata Ovviamente non è sempre disponibile, comunque è anche quella difficoltosa da raggiungere Quindi enormi difficoltà E' chiaro che anche, questo non lo dovrei dire, però è chiaro che anche abusivamente la gente sale Perché come fai? Hai un caro, è defunto e non sali dal cimitero E' chiaro che noi facciamo rispettare l'ordinanza Ma è chiaro che non possiamo mettere due vigili o delle forze dell'ordine E' anche un simbolo però che in un comune che ha avuto 19 morti dopo 5 anni c'è ancora un problema Anche andare al cimitero a rendere Assolutamente sì, infatti come dico, come ho detto già prima Quello potrebbe essere un punto di partenza per far rinascere le nostre idee Fin quando non sarà possibile raggiungere il cimitero di Scaletta Zanclea Non sarà un paese civile Non sarà un po' di partenza per far rinascere il cimitero di Scaletta